Ci sarà gara 3. Il basket club Irpinia è uscito sconfitto dal campo di Mariano con il punteggio di 78 a 69 in gara 2. Gli Irpini non sono riusciti a vissare l'eccellente prestazione di domenica scorsa ed alla fine complice anche l'assenza del leader Maurizio Ferrara è arrivato il K.O. La gara di giovedì sera ha visto come andare il gioco dalla squadra partenopea che ha potuto contare sulla buona vena di Salzillo e su un pubblico che ha trascinato la formazione al successo. Durante la gara ci sono stati animi un po' tesi come del resto è avvenuto anche nel corso del match d'andata. Le proteste, anche per via di un arbitraggio poco soddisfacente, hanno portato all'espulsione della lapivot Vincenzo Di Lauro e successivamente anche di coach Luca Iannacone. Ora bisognerà capire se i due tesserati potranno scendere in campo nel big match di domenica sera. Gara 3 infatti è prevista per domenica pomeriggio, 13 maggio, alle ore 17.30 presso la palestra comunale dello stadio Partenio Lombardi. Per i biancoverdi è una partita da dentro fuori e la fortuna fino a questo momento non ha certamente aiutato il team del presidente Cardillo che chiederà anche l'aiuto del pubblico per superare il primo turno dei playoff e continuare il sogno promozione.